Benvenuti al TG7, vediamo insieme le principali notizie di oggi. Apriremo tornando a parlare dell'operazione 38 Special, dove il PM Claudio De Lazzaro ha chiesto le condanne per 5 imputati di Monte San Viaggio. Ci occuperemo nuovamente del caso del 36enne Fondano, arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vedremo gli esiti dell'udienza. Leggeremo la lettera che Marigo Rosato e Abdel Asaraf hanno inviato al sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, riguardante gli aumenti dei diritti di segreteria su App. Ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia. Vi ricorderemo quelli che sono gli eventi in programma nei prossimi giorni a Fondi. In chiusura la pagina sportiva con la Procalcio Lenola, che in un comunicato ha ufficializzato le dimissioni dell'ex presidente Mauro Simone e ha dato il benvenuto al nuovo presidente Luca Mancini. Per il calcio A5 è stato presentato il nome del nuovo tecnico che guiderà nella prossima stagione Rosso-Blu, si tratta di Carlo Kundari. Per quanto riguarda la box arrivano ancora vittorie per il team del maestro Bruno Romano. A tra poco! Ben tornati al TG7. Torniamo a parlare dell'operazione 38 Special. Sono state richieste dal PM Claudio De Lazzaro le condanne per i 5 imputati, tutti i residenti a Monte San Biagio. Convolti in prima persona nella vicenda di prestiti a strozzo ai danni di un imprenditore fondano. 5 anni di reclusione e 20.000 euro di multa sono stati richiesti per il 71enne Franco Maiuri, originario di Roma. Stessa pena pecuniaria per il figlio 41enne Emiliano Maiuri. E per il 31enne Lorenzo Magnifico. Anche sia arrestati per usura, per loro il PM ha chiesto 3 anni e 6 mesi di carcere. Due anni e 6 mesi e oltre 9.000 euro sono stati invece richiesti per Ladislao Bove e per Youssef Maider, ai quali viene contestato solo il reato di estorsione. Ricordiamo che l'operazione era stata condotta dalla Polizia di Fondi nel maggio del 2015, dopo che l'imprenditore titolare all'epoca di un'attività di scommesse sportive si presentò in commissariato, raccontando di aver chiesto in prestito nel 2011 200.000 euro, diventati nel tempo 360.000 e che, impossibilitato nel restituire la somma, sarebbe stato vittima insieme ai suoi familiari di minacce. In seguito alle richieste dell'accusa, il processo è stato rinviato per il prossimo 21 giugno. Spostiamoci ora a Fondi, dove torniamo sul caso del 36enne Fondano arrestato nella notte tra l'11 e il 12 maggio, dai carabinieri della locale Tenenza guidati da Ivan Mastromanno, per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, il giovane pizzaiolo Fondano era stato trovato in possesso di 52,94 grammi di cocaina, 1,24 grammi di marijuana e 0,50 grammi di hashish, che dichiarava essere ad uso personale. Il GIP del Tribunale di Latina, però dopo il ritrovamento di un bilancino di precisione in casa, non aveva creduto all'uomo ed aveva inizialmente stabilito che il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, restasse nel carcere di via Spromonte. Martedì, dopo l'udienza tenutasi davanti al Tribunale del Riesame di Roma, assistito dagli avvocati Giulio Mastro Battista e Atena Agressi, ha ottenuto con successo la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domicili, con alcune ore di libertà per provvedere ai fabbisogni personali. Una lettera aperta, quella scritta per il sindaco Salvatore De Meo, riguardante i diritti di segreteria SUAP anni 2016-2018, scritta da Marigo Rosato e da Abdelwab Asaraf, rispettivamente responsabile organizzativo e coordinatore degli operatori ambulanti. Abbiamo letto con stupore e meraviglia, si legge nella lettera, la delibera con il quale il Consiglio Comunale ha approvato i diritti di segreteria che graveranno sulle attività commerciali di fondi nel triennio 2016-2018 e siamo rimasti di stucco. Nel recente incontro avuto con la nostra organizzazione, si era accennato a ritocchi che avrebbero inciso sul canone di occupazione di suolo pubblico per il solo anno 2016, poi approvati con un aumento del 10%, che comunque hanno fatto ulteriormente lievitare una tassa che era già tra le più alte in assoluto nella regione Lazio e forse in Italia. A luce delle nostre considerazioni, termina la lettera, chiediamo al sindaco di convocare un incontro urgente con la nostra organizzazione. Informiamo che abbiamo convocato per martedì 31 maggio un'assemblea pubblica aperta a tutte le attività commerciali e agli operatori ambulanti dei mercati settimanale giornaliero, durante la quale saranno valutate le eventuali iniziative di protesta. Ed ora colleghiamoci con la nostra redazione per le principali notizie dalla provincia, dove per noi c'è Valentina Teseo. Ascoltiamo. Grazie Alessia per la linea e partiamo dalla cronaca. Beni immobili ed immobili per un valore complessivo pari ad oltre 49 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma ai fratelli imprenditori Giuliano Michele Luigi Ascione, accreditati dal noto clan camorrista Mallardo, per conto del quale avevano costituito una vera e propria cellula economica operante, prevalentemente nel territorio del Basso Lazio. La confisca, disposta dal Tribunale di Latina a sezione penale, interviene a distanza di circa tre anni dal sequestro, eseguito nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti dei fratelli Ascione. Non riuscivo più a vederla soffrire. E' apparso ancora molto frastornato Ernesto Cardosi, il poeta 72enne di Latina, davanti al giudice per le indagini preliminari Matilde Campoli, che lo ha interrogato in carcere. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari, ma ha convalidato l'arresto per omicidio volontario aggravato. Come si ricorderà, l'uomo ha assassinato la moglie 69enne Anna Recalcati con un colpo di pistola alla nuca. Il cadavere è stato ritrovato domenica sera, dopo che l'uomo lo aveva vegliato per più di 24 ore. Concludiamo. Fortunatamente è rimasto ferito, solo di striscio, l'operaio vittima di un incidente sul lavoro a Sezze. L'uomo in questione stava lavorando nel cantiere Astral sul nuovo tratto in costruzione della nuova 156 dei Monti Lepini, tra Ceriara e Sezze Scalo, quando è stato colpito di striscio da una catena che si è sganciata. Prontamente allertati i soccorsi, l'ambulanza a corsa ha deciso di trasportarlo al pronto soccorso della Santa Maria Goretti a Latina. Queste le principali notizie di oggi dalla provincia, la linea torna allo studio. Grazie Valentina. Ed ora passiamo alla pagina riguardante gli eventi. Domenica 29 maggio alle ore 19 presso la splendida location del Museo Civico di Terracina Pio Capponi si terrà la premiazione del concorso fotografico nazionale Earth is Art organizzato dal Rotact Club Terracina Fondi. Le fotografie in gara saranno valutate da una giuria di esperti che decreteranno i vincitori. A questi saranno assegnati dei magnifici premi, come pacchetti smart box e tablet. Le fotografie vincitrici rimarranno esposte in mostra nello stesso Museo di Terracina, dal 29 maggio al 10 giugno. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di un defibrillatore da donare al Palazzetto dello Sport della città di Fondi. Si terrà a martedì 31 maggio alle ore 9 e un quarto presso il Palazzetto dello Sport di Fondi il consueto appuntamento annuale con il Memorial Matteo Parasmo. Durante la mattinata i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia Paritaria Mater Domini si esibiranno in un bellissimo spettacolo intitolato La Ruota delle Stagioni. Una splendida occasione per ricordare insieme a tutti i genitori il piccolo principe Matteo Parasmo, purtroppo scomparso prematuramente quattro anni fa. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. In un comunicato ufficiale la società sportiva Procalcio Lenola ha fatto sapere che a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione Societario si è ufficializzato il nuovo organigramma che vede dopo tre anni di gestione le dimissioni del presidente Mauro Simone. Al suo posto è subentrato Luca Mancini. Accanto a lui i nuovi soci quali Mimmo Massara ed Antonio Marsella. L'ex patron Simone ha voluto ringraziare tutto lo staff dirigenziale, tecnico, i ragazzi, gli sponsor, il dottor Berardi, Daria Laura Antonietta e tutti i soci sostenitori. Passiamo al calcio A5. Carlo Cundari, il nuovo tecnico che la Virtus Fondi Calcio A5 ha scelto per guidare la panchina rosso-blu nella prossima stagione. La società fondana ha affidato al partenopeo anche l'Under 21 per migliorare la qualità e gli innesti in prima squadra. Classe 63, Cundari ha alle spalle un'esperienza notevole al comando di molte squadre di serie A1, A2 e soprattutto serie B. Appena arrivato, Cundari insieme con il direttore sportivo De Bonis e il vicepresidente Peppe hanno già incominciato a lavorare per formare la rosa per la prossima stagione 2016-2017. L'associazione ROTS King Boxing del maestro Bruno Romano gareggiando nell'Explosion Open 5 disputatisi a passo corese ha conquistato 8 ori e un argento con soli 5 atleti. Ma ai campionati italiani di World Train Karate ha commentato brevemente il maestro Romano che si disputeranno tra due settimane a Rimini staremo al gran completo visto che ben 25 nostri atleti si sono conquistati la qualificazione. Come sempre daremo più del massimo per quel sogno che a volte richiede solo maggiore convinzione perché si realizzi. Se volete inviarci segnalazioni commenti o suggerimenti potete farlo basta scriverci al nostro indirizzo mail redazionechiocciolatvcanalesette.it oppure sulla nostra pagina Facebook Canale 7 Il TG termina qui grazie per averci seguito continuate a farlo su nostro sito tvcanalesette.it Vi ricordo gli orari del notiziario le ore 7.50 13.50 18.50 20.50 23.50 Grazie